Guardate quanto è cute! Si può avere pure gratis, ma l'avete capito che cos'è? Questo è un mini frigorifero con specchio e luci incorporate, perfetto per conservare maschere per il viso ma versatile anche per molteplici utilizzi. Lo potete avere in regalo per l'anniversario di Temu, ma ora vi faccio vedere come si fa. Per l'anniversario di Temu nuovi utenti possono ricevere dai 13 prodotti gratuitamente. L'unica cosa da fare è andare o sul mio link in bio o semplicemente cercare il mio codice sconto che ti lascio qui sempre sull'applicazione di Temu. Questo mini frigorifero lo potete utilizzarlo in tre modi, quindi è un tre in uno. Allora, semplicemente come frigorifero, quindi ci potete mettere tipo le bevande, non so, le bottigliette per raffreddare qualcosa. Lo potete utilizzare anche per la vostra skin care, lo mettete dentro, fate una bella maschera refrigerante bella fresca, oppure lo potete semplicemente utilizzare come specchio. Un'altra cosa da notare è che sicuramente è molto spazioso perché ha tre scompartimenti. In più non è neanche molto rumoroso, cioè proprio sentite un minimo minimo rumore, lo potete mettere in camera da letto, quindi molto comodo. Vi ricordo anche che acquistando da Temu avete la spedizione gratuita e 90 giorni per i resi. E niente, mi raccomando, se anche tu vuoi questo mini frigorifero, usa il mio link in bio o cerca il mio codice sconto su Temu per averlo subito.